Sicuramente è una preparazione molto lunga che però onestamente ci ha aiutato perché abbiamo avuto più mesi, partita più o meno da luglio la preparazione, abbiamo avuto tutti questi mesi per prepararci sia fisicamente e cercare di migliorare durante l'estate che anche tecnicamente e anche sotto il punto di vista dell'organizzazione della squadra abbiamo fatto dei grossi passi avanti quindi sicuramente andremo in Irlanda per fare la nostra partita, sarà un'Italia diversa, molto più combattiva, molto più spietata. Gli irlandesi li conosciamo molto bene personalmente ci cerchiamo contro tutti gli anni, tutto l'anno e quindi insomma sappiamo a cosa andiamo incontro, non c'è una tensione maggiore o minore quindi la mentalità è sempre quella di entrare in campo aggressivi e cercare di dominare l'avversario. È la prima volta per me che sono così partecipi all'interno del gruppo e insomma della nazionale. Gli anni scorsi probabilmente non ero pronto, comunque magari avevo ancora delle lacune, dovevo crescere, non lo so. Mi sono dato degli obiettivi di migliorare sempre, di dare sempre il cento per cento al club in ogni allenamento in modo che ognuno possa costruire la persona, il giocatore. Cerco sempre di dare il meglio di me in tutti i campi e se continuerò a far parte della squadra sarà merito mio di merito mio.